Ciao amici, nuovo giorno, nuovo vlogmas. Oggi vi porto un po' con me in maneggio perché la domenica mattina ho lezione, qua ci sono io che preparo Betsy, vedete Betsy che carino, e qui vi metto un po' di clip della lezione siccome me lo chiedete sempre. Ho iniziato da poco a saltare quindi siate buoni vi prego e se avete consigli ovviamente sono molto ben accetti anche perché non so che cosa sto facendo, aiutatemi. Dopo lezione ho fatto un po' di coccolini a Betsy, poi l'ho un po' portato fuori a brucare anche se ormai con questo freddo non c'è praticamente più erba, però vabbè. Dopodiché sono partita, sono andata dai miei genitori a mangiare e poi siamo andati a Genova perché oggi avevo il mio firmacopie lì. Ne approfitto per ringraziarvi perché siete stati tutti gentili, super carini e vi voglio un sacco bene, è sempre bello incontrarvi. Ovviamente i firmacopie vanno festeggiati e quindi sono andata a mangiare fuori con i miei e abbiamo mangiato un sacco di cose buone. Fine, ci vediamo al prossimo vloghino introversino, ciao!